Ok, ciao a tutti, sono ancora BcTFGatto e allora benvenuti nel nuovo episodio di Bayonwood Devil Ok Come al solito giochiamo in italiano Ah, giusto, non ero dimenticato anche se avevo detto che li volevo mettere ma poi mi sono dimenticati Stavolta ci sono i sottotitoli, perfetto, allora cariciamo la quantità Isola nera, perfetto Eccoci qua Allora Di qua stiamo avanti Porti le direzioni magnetiche, si va male, guarda mia Perché c'era qualche animaletto che mi fa Darsi Ok Allora andiamo Questi li avevamo già fotografati l'altra volta, si è l'amadillo e questi qui Ok Come arrivo là di su Ok Perfetto Ok Perfetto Fase molto Ambigua e fraintendibile Ok Vai Vai Ok Sì Ok Giusto sti così Basta che ti muovi Ed ecco qui l'idea Allora Fatto Ora però dovremo andare ad aprirli Ok Perfetto Prima di andare avanti Facciamo una foto Che ci rimarrà nella memoria Che ci verrà messa come mappa Questa è un'altra specie Spirici Noi Ho capito Perfetto Facciamo una foto a questo Perfetto Ci servono qui i soldi Di quei cristalli Spero che voi mi siete sentendo adesso Perché il microfono è mezzo partito Ok Bene Bene Ok C'è una perla che ho mancato Vabbè uguale Ormai Ah no forse la prendo dopo Ok Ok Sbagliato Perfetto Perfetto Ora possiamo continuare Ora possiamo continuare Ok La non possiamo passare Giusto Quelli sono le uccele Ok Questo lo devo fare a foto Ok Ce l'ho fatto Ce l'ho fatta Ok Mi sa che mi ha detto a me Mi sa che mi ha detto a me E qui come faccio Ah ok Devo spingere Perfetto No Amica Guarda Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, perfetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mamma mia, mi se ne mangia. Ok, abbiamo ancora del tempo di finire tutta la missione. Ok, ora apri. Mani, mani. Ok, ora uno. E ora tutto. No, ora due, uno e uno tutto, vai. Spunta fuori. Perfetto. Perfetto. Eh, qui mi dice che continuando vado a qualche parte, ma dove devo... Cioè... Cioè... Qui della parte sbagliata. Sicuramente. Non venisci da nessuna parte. Qui non posso salire. Ma se non posso salire lì, non posso andare dire... Qui... Ho rotto l'affare, quindi... Ah, eccolo. Ok. Fatto. Di servicito. Di servicito. Chi era dove eravamo prima? Dove dove andavamo? Dove dove andavamo? Dio, per forza. Dai, volevo fare gli acciati. Dai, volevo fare gli acciati. Dai, 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 dai. Perfetto. Qua. Vamonos, vamonos. Olè. Che poterevo reagire io. Uh, uh. Questo lo voglio prendere. Perfetto. Cammina, cammina, corri dai, dai, dai. Ok, facciamo così. Non è che questo lo può spingere anche da sé. Perfetto. E ora può arrivare anche lui. Oh oh. Grazie a tutti. 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 Ok, ora si è caricato il microfono. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, e voilà. Grazie a tutti. La cosa è la stessa. Eccoci qua. Questi, secondo me, assomigliano a quei crepi pasta che fa vedere quei... a topolino gli alieni. Se non c'è un casino. Ok, perfetto. Ed è successo un casino. Perché quello, perché quello è un casino. Perché quello è un casino. Perché quello in realtà era un... non c'è un'altra... No, non c'è un casino. No, non c'è un casino. Ok. No, non c'è un casino. Ancora? No, non c'è un casino. 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 argol�ado per centraria... Non c'è un casino. Allora eh. E ce l'ho fatta Preciso Ma La 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco. 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 quindi anche questo episodio è finito nel prossimo andremo in città e oltre a comprarci della roba perché ci servirà andremo anche a investigare appunto su queste cose e vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto anche se purtroppo ci sono state alcune interruzioni errori tecnici che purtroppo al momento non posso porvi rimedio e comunque e via grazie per aver guardato il video ok e al prossimo episodio ciao